Scusatemi un attimo Allora, rivolgo il mio regno Grazie A suon di botte Guardate E che cacchio Make primary A suon di botte 13.000 e 4 13.000 E andiamo a Ah si, prendiamo un po' più Di truppe leggere E abbiamo riformato Finalmente L'Italia Ah Abbiamo ripresa Ora Vediamo un po' L'impossibile è stato fatto Sì Non me lo sarei aspettato Ma questo invece è quello che è accaduto Adesso in questo momento abbiamo Il polso della situazione E ce l'abbiamo finalmente per noi Che cazzo sei? Dio santo questo qui è nuovo Ah mia quanta gente che lo vuol vedere morto questo Su che è per la serie? Oh io questo lo voglio morto Eh si Anche io Anche io Anche io Mi sta sul culo Anche a me Anche a me Che poi sono tutti i petty plotters Ma Nonno mia dovrei avere così tanto Mamma quanta gente Sì Sì Veramente questo qui è È amatissimo No No 99 Te lo scordi Questo è troppo E poi si fanno scoprire E poi si fanno scoprire Eh vabbè Dai Allora Questo qui È il tizio di Schwabia Allora Tipo di Schwabia Allora io ti dico subito Tu Qua è l'inchiappetto a morte Notare le dangerous faction come Si sono subito svegliate Non appena io ho tirato i reni in barca Con i soldi Quando sono sceso tanto Inizio che non potevo fare più di nient'altro E quindi So che adesso quando ci pianta Ci pianta adesso una bella Una bella botticina Che muore E siamo a posto 1434 Duchessa di Sardegna Addirittura Ma cosa ha fatto questo qua Per meritarsi l'odio da parte di tutti A parte che È in mezzo ai piedi A mettere il controllo del 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 mio regno Che non ho ben capito La ragione Però va bene Oh adesso lo ammazziamo Dai 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 Che lo eliminiamo Ops E' moruto E' moruto Overvustle limit Bene Bene Abbiamo sistemato il problema Abbiamo poco più di 20 anni Anzi meno Più o meno 16 anni abbiamo ancora Più o meno 16 anni abbiamo ancora Non so ragazzi come liberarmi Perché ho troppi vassalli Devo liberarmene di uno Non so cosa Forse lo Schwab Schwab Lì E così non abbiamo più problemi E te vedi farti fregare Nazareno Perché a me una cosa qui non va bene Nazareno Aspetta un attimo Quanto è che manca ancora Che non è che ho perso traccia del tempo Fondamentalmente Un generoso favore Acquire a title Sì ma che cosa cacchio Ti dovrebbero dire che cosa ti danno County of Marrakesh Ma a me non frega niente di Marrakesh Ok mettiamo anche loro Poi vediamo se qualcun altro Che devo sostituire Che ora sono Sono le 7 E direi che adesso tiro Per andare fino alla fine Non vedo perché Non potremmo farlo Una ventina d'anni Più o meno Più o meno Oh grand title Perfetto Siamo riusciti a cambiare una legge Nel consiglio Incredibile Italian war for Duke Bruno's claim Timbuktu Ma guardate che roba Mi chiamo No No nooooo bene 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 i figli stanno crescendo sempre di più questo è bene a me non me ne frega niente scusami di quello che di come gestisce i ladri maschili rispetto a quelli femminili dimmi si mangio a casa si mangio a casa vi grazio con la mia presenza scala lì no io gestisco quello che voglio nel mio maledetto reno non il papa decline ah guarda dove non 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 no madonna diecimila uomini non 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 si si ok accetto questo eh bentornato cosa c'è? non 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 adesso sta incominciando a fare un altro un altro genere di 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 cattiveria eh sono gli ultimi anni ormai si ci siamo stiamo uscendo al termine un altro che non 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 ormai qui stiamo facendo le scelte rapide per poter finalmente abbiamo gli eserciti che sono grossi non possiamo far gli animali e adesso liberiamo anche i prigionieri perché anche noi non siamo rancorosi abbiamo semplicemente fatto una guerra perché ce l'hanno chiesto gli eventi ci facevano un casino nel consiglio oh possiamo costruirlo 1439 comunque è il 1453 l'ultimo l'ultimo anno quindi abbiamo ancora 14 anni da fare l'ultimo anno questa cosa qui dei pikeman non l'ho ancora capita bene però va bene oh l'osservatorio è finalmente pronto perfetto questa è una cosa bellissima vedrà un'altra cosa il nostro corso se andiamo qua si non siamo una compagnia molto grossa però insomma come fanno a muoversi le stelle ora sono un volaggio fisse cosa gli è finito questo? perché è così? eresia, le stelle sono fisse eh no in questo caso invece come puoi vedere non sono fisse sono diventato cinico ok, si, vado tranquillamente vediamo se possiamo ancora rimanere amici il friendship is over perché Prince Morrison del male? adesso ha ricevuto lui beneplacido e benestare vabbè con i robot in Brighton X Communication War madonna cosa cavolo è successo? tutto questo l'impero di Bisanzio è rimasto uguale si stava un po' espandendo di qua l'impero mongolo è diventato grosso borgogna qui si è espansa un attimo la Francia si sta allargando un pochino oh, qui gli esti sono tornati normali 1441 mancano 12 anni mostra che è morto il cancelliere eh vabbè adesso lo ripiacciamo ce l'abbiamo fatta a Sinicolos hai visto? dimmi perché Milano ho perso tutte le mi ha cambiato dei funzionamento mi ha cancellato degli upgrade che avevo fatto che avevo fatto poi ragazzi cosa andiamo a fare? miglioro sempre la Monastic così va bene teniamo così vai vai divertiti come cavaliere d'ospitalieri no tranquillo capisco industanzi che sono quelli che vengono da lontano sì mi può servire uno così anche se è uno che gli hanno tagliati che è un eunuco ed è un impalatore military organization sicuro immediato proprio guarda che military organization ci aumenta la possibilità di utilizzare più uomini lontano abonare intenzione lontano aciones quindi rimane attraverso e per allah